In Italia, chi trasmette la malattia? 48 milioni e mezzo di persone sono vaccinate con almeno una dose, meno di 6 milioni sono i non vaccinati, è innegabile, scrive sempre Gabbanelli nel Data Room, che la circolazione del virus è sostenuta in larga parte da persone vaccinate. Lei si è vaccinato? No, io sono un guarito Covid e sono in un percorso protetto vaccinale. Però mi diverte parlare del mio passato, siccome sono un residuo degli anni 70, il personale politico, mi è successo che io gioco a pallavolo, sono appassionato di pallavolo, e da qualche tempo non gioco più, perché i miei amici, tutti i vaccinati, ho capito che si spaventavano, come si può spaventare forse il dottor Damirano. Non sono andato più a giocare a pallavolo e in questa chat, tutti con due dosi, con tre dosi, fra poco con quattro, ho tutti contagiati. E quindi bisogna guardare in faccia questa realtà, che quando Mario Draghi ci ha detto facciamo il Green Pass così starete fra persone immunizzate, o era male informato o mentiva. E in ogni caso questo per un premier non va tanto bene.